Tanto comincio da alcune scuse prima di fare i saluti, perché mi scuso per il ritardo con cui vi ho raggiunto, mi scuso con Cinzia naturalmente, ma con tutti i presenti, ma ero Presidente della Repubblica per il tradizionale incontro dell'8 marzo, che ogni anno viene organizzato. Quest'anno con un focus, un'attenzione particolare e precisa alle donne iraniane, alle donne afghane, alle donne vittime dei conflitti, quindi uno spaccato internazionale, perché quando giustamente parliamo di diritti in casa nostra dobbiamo anche chiederci a livello internazionale qual è la condizione delle attitudini geografiche, la condizione dell'operazione dei diritti fondamentali, dei diritti delle donne, che sono diritti umani. Quindi vi ho raggiunto con ritardo in quanto impegnata in questa iniziativa. Saluto la dottoressa Serenella Pesarin, saluto la dottoressa Grazia Russo e la mia collega Cinzia Pellegrino. Voglio salutare anche, vedo molte amiche in sala, non le citerò, voglio però almeno salutare i rappresentanti dei nostri dipartimenti, Chiara Iannarelli che è responsabile della provincia di Roma, Antonella Zuppa responsabile della provincia di Foggia, Donorevole Madarena Morganti che è responsabile regionale del Veneto e che fa un po' le mie veci in quanto io in questo momento con l'incarne sottosegretario, purtroppo sto trascurando un po' il dipartimento. Ciò nonostante, insieme a Cinzia e quindi insieme lavorando in tanto con i due dipartimenti, anche quest'anno abbiamo organizzato per la terza volta il premio eccellenza donna. Come avrà sicuramente sottolineato lei in apertura, la volontà è quella di non cadere nella tentazione della celebrazione dell'8 marzo fine a se stessa, ma riempire il più possibile di contenuti questa ricorrenza che ha una sua storia, una sua tradizione e anche un suo perché e la volontà di riempirlo di contenuti un elemento che noi vogliamo sottolineare da tempo è quello del merito, cioè premiamo donne che si sono distinte, che si sono affermate in una del loro settore per capacità, per merito ma anche per spirito di sacrificio, per la negazione e tra l'altro avevo chiesto a Donorevole Morganti di farlo al mio posto perché già prevedevo questo ritardo e l'elenco un po' di quelle che sono in tutta Italia, giusto Cinzia, le iniziative che si svolgeranno tra oggi fino a domenica in varie città italiane, abbiamo stimato 43 province, dove si svolgono incontri simili a questo ma anche di forme diverse che però hanno in comune questo filo rosso, cioè premiare donne per la loro eccellenza e per il loro merito. Le iniziative quindi sono molte, sono diverse, tutte dalla stessa direzione. E voglio anche ricordare che un anno fa eravamo insieme con Cinzia e insieme con quella che poi sarebbe diventata la prima premier donna della storia repubblicana, naturalmente mi sto riferendo a Giorgia Meloni, eravamo insieme a inaugurare una mostra itinerante che ancora incontra fortuna e successo, che è la mostra dedicata alle Patriote d'Italia. Grazie. Grazie.